Silvia riposa dentro la stanza con una mano sotto il cuscino mentre di fuori spunta al mattino che fra non molto la svederà. Silvia si veste davanti allo specchio e sulle labbra un po' di rossetto andiamoci piano però con il trucco e sulle labbra un po' di rossetto e poi la smetti con tutto quel trucco che non sta bene, te l'ho già detto. Silvia non sente oppure fa finta guarda allo specchio poco convinta mentre la mano si ferma sul seno è ancora piccolo ma crescerà. Crescerà Silvia raccorre oltre lo specchio dimenticando che sono le otto e trova mille fantasie che non la lasciano più andare via. Silvia raccorre oltre lo specchio Silvia raccorre oltre lo specchio e trova mille fantasie in un'epoca di un'epoca in 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 un'epoca Grazie a tutti.